CGL e Cisterwill ritengono quello dell'ammodernamento delle infrastrutture un punto fondamentale per il rilancio del mezzogiorno del Paese. Così si legge in un documento unitario di CGL e Cisterwill firmato dai segretari nazionali Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, insieme ai regionali Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo. La triplice ritiene decisivo per il futuro del Sud che il Governo intervenga concretamente per la riqualificazione e la realizzazione di quelle opere infrastrutturali prioritari che sono determinanti per la ripartenza economica e la sostenibilità sociale del territorio meridionale. I sindacati chiedono al Governo di dare continuità alle decisioni assunte dal precedente esecutivo e prevedere nella legge di bilancio l'intervento previsto per l'opera pubblica denominata Strada Statale 106 che, attraverso quanto previsto dal documento di Economia e Finanza, è stata definita un'opera strategica attraverso investimenti congrui finalizzata al completamento dei tratti cantierizzati, all'esecuzione dei restanti e al finanziamento degli studi progettuali dei tratti necessari alla realizzazione di questa infrastruttura su tutto territorio regionale interessato fino a Reggio Calabria. CGL Cislewil ricordano al Governo che l'ammodernamento e la completa realizzazione della Strada Statale 106 rappresenta il punto fondamentale dell'avvertenza Calabria, aperta tra CGL Cislewil e Governo regionale che prevede, tra le altre questioni, la richiesta di adeguamento strutturale e ammodernamento di quest'opera strategica. Grazie.